Non pensate anche voi che siamo un po' troppo pieni di queste applicazioni che però di fatto non servono quasi più a niente e finiscono per diventare un'iconcina che non usiamo sul telefono piuttosto che una risorsa davvero utile. E questo perché almeno lato aziendale si ha ancora l'idea che per aiutare l'utente a far qualcosa serva l'app dedicata per fare quella cosa. Ma questa ovviamente è una visione piuttosto arcaica del mercato moderno delle applicazioni e diciamo così non troppo aderente a quello che effettivamente l'utente ad oggi percepisce. Allora perché si fa? Per il marketing perché con un'applicazione è più facile suggerire pubblicità mirate alla persona mentre con un sito web è ancora un po' complicato. Ma se la guardiamo un po' più al di fuori di queste meccaniche ci accorciamo che il mondo del web di adesso ha reso queste applicazioni superflue al limite del cringe direbbe qualcuno perché se la grande azienda ti dice scarica la mia app per avere i miei super sconti scarica l'app del ristorante per guardare il menu utilissimo e io da dei tuoi lavori me lo sto cominciando a chiedere quanto ha davvero senso questa cosa? Vogliamo continuare a portare avanti la narrazione sbagliata e scollata dalla realtà che le app servono effettivamente a qualcosa? Perché mi sa che le app non servono effettivamente a qualcosa se non a profilare. Occhio al mondo, l'occhio attento a quello che ci succede intorno. Attenzione, le app non sono totalmente inutili anzi le app nascono con una buona intuizione nascono nel 2009 con iPhone ma in realtà c'erano già prima solo che iPhone introduce al grande pubblico il concetto di App Store e lo rende un po' più accessibile all'uomo comune Di conseguenza le applicazioni hanno cominciato a proliferare in tutti gli altri sistemi smartphone o computer anche al di fuori dell'ecosistema Apple Guardiamo solo ad Android che ha preso sì la cosa delle applicazioni ma diciamo l'ha fatta un po' diversa anche lato sviluppo e quindi Android è quello famoso per avere qualsiasi tipo di app cosa che Apple invece si è un po' persa ma perché Android è più personalizzabile e puoi farci tutto perché ci sono meno controlli dall'alto perché Apple ha delle policy ben precise però non entriamo in questo ginepraio perché lato tecnico potrei parlare per ore di quanto il sistema con un controllo draconiano una parte della mela abbia senso ma anche di come sia poi stata la grande fortuna di Android Al tempo le app erano migliori del sito web per due motivi principali il primo era che il sito web navigabile da telefono non era ancora così performante a livello attuale cioè il mobile friendly era una simpatica idea che non arrivò nel 2009 quando invece i telefoni potevano andare su internet io ricordo ancora di aver avuto un Samsung che navigavo con Facebook web ma Facebook web non aggiornava neanche la pagina in tempo reale quindi per vedere se qualcuno mi aveva mandato un messaggio dovevo aggiornarla io e usavo il WAP ma anche il wifi di casa questo già ci dà l'idea di che cosa voleva dire navigare internet anche solo nel 2012 l'altro motivo è che l'app dialoga meglio col dispositivo gestisce meglio tutto quello che sono i dati interni e non lascia quindi al browser di far da tramite abbiamo già parlato di cos'è il multipiattaforma vi rimando alla puntata dove spiego effettivamente l'utilità nel pratico e questi due motivi messi insieme hanno consacrato il concetto di applicazione nel nostro immaginario collettivo perché non devi usare un browser che è lento ma già parla con l'azienda che produce quell'app e quindi hai un salto che arriva direttamente ai dati lato velocità è molto più veloce l'applicazione perché molto banalmente è già ottimizzata per il telefono precisa non ha bisogno di caricare l'interfaccia grafica perché per come funzionano le applicazioni l'unica cosa che effettivamente devi caricare da internet sono i dati e poi andranno a comporre l'interfaccia grafica e questa era tanta roba nel 2009 fin quando non è arrivato il concetto di mobile friendly ma il fatto che le app stavano andando così tanto bene ha illuso certe realtà che fare un'app dedicata alla realtà abbia molto senso e all'inizio sì era per motivi di utilità ma poi è cominciato a diventare per motivi di marketing se io faccio l'app dedicata al mio ristorante so praticamente quale piatto viene visto di più perché posso tenerne traccia quindi posso farmi la domanda ma ci stanno di più perché il cibo è più buono o ci stanno di più perché è difficile capire che cosa c'è o ci stanno di più perché è esteticamente appagante la foto che ho messo quindi non è più una questione appunto di semplificazione per l'utente ma è più una questione utilitaristica per il fornitore dell'app ad oggi molte persone continuano a scaricare app per specifiche esigenze o per preferenze trovandole ancora utili e pratiche anche perché molte aziende continuano a spingere i consumatori a scaricare l'app spesso con la promessa di sconti ma in realtà l'obiettivo più subdolo è proprio di raccogliere i dati per profilare le persone non solo genericamente ma anche con altri dati tipo la provenienza geografica tipo da quanto hai installato l'applicazione tipo se hai un profilo oppure no legarlo al profilo eccetera eccetera e attenzione con questo non voglio dire che la presenza online non deve esistere nel contesto moderno anzi io sono un fervente sostenitore della presenza online come strumento utilissimo per farsi conoscere se no non sarai qui ma a volte non è necessario avere un'app per ogni funzione il punto vendita può mostrarti gli sconti anche sul sito web che specialmente oggi è già ottimizzato per il mobile quindi non hai neanche da dire facciamo l'app ma facciamo il sito a norma di standard così tutti i telefoni ce l'hanno e io spendo meno ma vabbè questa è la parte economica che possiamo toccare solo velocemente per dire che questa cosa ha senso per i piccoli ma controintuitivamente per le realtà grandi in realtà il discorso è lievemente diverso ci sono situazioni in cui le app hanno funzionato molto bene portando un aumento degli acquisti da parte dei clienti ma questo è successo con brand forti come McDonald's, Nike e Levis che hanno visto crescere le vendite grazie alle loro app soprattutto grazie alla personalizzazione eccessiva che queste app offrono quando aumenta l'engagement dei clienti e riesci a farli rimanere più tempo coinvolti capisci le loro priorità e loro di conseguenza comprano di più e questi esempi appunto dimostrano che per marchi molto forti a livello di posizionamento in realtà avere un'applicazione è vantaggioso io già personalmente mi trovo in difficoltà quando devo usare l'applicazione di un ristorante anche se è una catena perché non vedo il senso di scaricarmi l'app e di farmi il profilo per avere gli sconti poi in futuro o l'app del supermercato o l'app del cinema io ho già l'account perché devo farmi l'app del cinema quando in realtà tu basta che mi dai un pdf con il biglietto oppure me lo metti negli acquistati lato tecnico devo informarvi di una cosa oggi esistono le progressive web app un'alternativa che sembra un'app in tutto e per tutto ma in realtà è un semplice sito web queste app permettono agli utenti di accedere ai contenuti ma anche offline e eventualmente ricevere notifiche push senza però dover scaricare alcuna app separatamente e anche grazie all'https ti permettono di accedere alla posizione dove è l'utente e altre cose senza problemi se usi la posizione solo per trovare il punto vendita più vicino un'app che richiede la tua posizione e che poi in modo nascosto monitora anche ciò che guardi diventa dannosa e inutile anche perché la parte del monitoraggio la può fare benissimo anche un sito ad oggi quindi capite il mio discorso ormai non c'è più necessità effettivamente di avere applicazioni di questo tipo è solo un inutile spreco di spazio di sviluppo e paradossalmente è più interessante investire sul web di nuova generazione che funziona con un sacco di rigori in più piuttosto che avere l'applicazione poi attenzione l'applicazione magari ha delle semplificazioni che il sito web non si può permettere e in quel caso ok siamo tutti d'accordo che se io voglio usare Telegram non mi metterò di certo a usare il sito di Telegram ma io non sto parlando di quelle realtà lì della mail che posso usare Outlook per telefono io sto parlando delle applicazioni nate per qualcosa che fosse al di fuori di fornire un servizio digitale e in realtà se torno all'esempio di prima in questo discorso ci rientra anche l'applicazione del cinema dove ti fai il biglietto io quella lì in effetti adesso che mi ci fate pensare la posso anche accettare perché ha senso che ti semplifichi l'accesso alle informazioni va bene ma se questo può essere trasformato in modo molto più performante in un sito che anche spendi molti meno soldi forse un pensiero ce lo farei senza fare nomi eh comunque so che mi state ascoltando attraverso un'app che sia Spotify, Spreaker o YouTube quindi fatemi sapere se condividete o meno questo pensiero lasciando un commento nel gruppo Telegram che trovate in descrizione o a schermo in questo momento detto questo però ora io vi saluto vi auguro una buona giornata e ci vediamo a una prossima puntata Informatica mondo del web questo è tanto altro su occhio al mondo l'occhio attento a quello che ci succede intorno